Prima udienza davanti alla Camera di Consiglio del Tribunale di Bruxelles per i quattro fermati nell'ambito dell'inchiesta sul Qatargate. Di fronte ai giudici belgi, l'ex vicepresidente del Parlamento Europeo Eva Caili, l'ex eurodeputato socialista Antonio Panzieri e poi il suo assistente parlamentare e compagno della Caili Francesco Giorgi e Nicolò Figatta Lamanca, segretario dell'ONG No Peace Without Justice, accusati di corruzione. Secondo la procura della capitale belga erano tutti al libro paga del Qatar. In cambio di denaro il loro compito era quello di addolcire l'immagine del paese del golfo che in questi giorni sta ospitando i mondiali di calcio, distorcendo la realtà soprattutto sulla questione dei diritti umani, spesso e volentieri calpestati. Fiumi di denaro in contanti, in parte già rintracciato come circa 750 mila euro, rinvenuti nell'abitazione di Eva Caili, anche se lei oggi ha detto ai magistrati che non ne sapeva nulla. Finora si parla di un milione e mezzo di euro in tutto, finito nelle tasche degli indagati, ma anche di regali, viaggi di lusso e favori di ogni genere. Per tutti e quattro la procura di Bruxelles nelle prossime ore deciderà se applicare misure cautelari diverse dall'arresto in carcere. L'inchiesta però è sola all'inizio ed è probabile che si allarghi e che cresca anche il numero degli indagati. Nel frattempo il Parlamento europeo, travolto in pieno dallo scandalo, prende le distanze. Non metteremo la polvere sotto il tappeto, ha detto la Presidente Mezzola, annunciando un giro di vite e maggiori controlli sui rapporti con i paesi terzi e sui finanziamenti che reggono le organizzazioni anche non governative che fanno in qualche modo capo alle istituzioni europee.